Il Papa ha detto che i migranti devono essere accolti a braccia aperte. Voi siete cattolici in politica, come interpretate questo messaggio? Il Papa parla come un modifete, non è un politico. Per lui l'atto d'amore è la cosa più importante della vita. Nella politica a volte subvengono valutazioni di opportunità, non di consenso e di senso. E poi su questa questione che è precipitata in una maniera quasi gigantesca, anche chi ha un'opinione rischia di cambiarla e chi non l'aveva di sostenerla solo per ragioni dialettiche. Naturalmente questo non significa non attivare politiche, che si sono in grado di frenare i flussi migratori che rischiano di far esplodere le società nazionali. Questo che cosa significa? Significa ad esempio che l'Europa debba ridare all'Africa ciò che per secoli ha preso dall'Africa. Il dato che nessuno ricorda è che i grandi paesi che oggi sono intransigenti rispetto ai migranti sono stati paesi che hanno per secoli colonizzati parte di quel continente. Quindi il vero problema è mettere insieme delle politiche di crescita in sede locale con l'accoglienza possibile di tutti i paesi, quindi ritorlocando una parte dei migranti anche nel resto dell'Europa. Per quanto riguarda lo YouSoli, De Rio ha detto che un voto di coscienza non è un voto politico. Lei che ne pensa? Non mi occupo di queste cose perché io appartengo ad un'altra stagione. Quando un problema si affrontava c'era chi votava a favore e chi votava contro. Quelli che dichiarano non sempre convincono. Probabilmente hanno difficoltà insuperabili. Beh, insomma, io le devo dire che questo è il risultato del pensiero debole che ormai coinvolge l'intero sistema politico italiano. Perché una legge già approvata da una Camera e poi anche alcuni amici personali, diciamo cattolici, che ritengono invece di mettere un alto là alla approvazione definitiva, è segno che in realtà la piazza comanda, mentre al contrario un pensiero forte guida la società, non la insegue. Da noi purtroppo sta accadendo da 20 anni a questa parte l'esatto contrario. Tutti all'inseguimento della società e delle sue pulsioni più profonde e meno razionali. Secondo lei quindi andrebbe portata avanti questa legge? Beh, ma mi sembra di sì, anche perché non abbiamo un sistema come quello americano, per cui basta nascere in Italia per arrivare a essere cittadini italiani. C'è bisogno di cinque anni, c'è bisogno che si studi e si parli la lingua. Insomma, sono una serie di paletti che consentono naturalmente di poter filtrare e di recuperare la italianità di quelli che sono già di fatto italiani.